Una banda verde attraverso la sinistra e destra. Occhi luminosi e un po' piccante. Con un chiaro senso di gel. Attraverso la luce può essere visto su entrambi i lati della banda attraverso il verde chiaro. Indicando che la banda di colore è mangiato in profondità. Tagliare le possibilità di molto grande. Faccia così buona pietra originale. Se messo in questo anno. Meno di 3 milioni che non è nemmeno pensarci. Uno sguardo più attento con una luce mostra alcune crepe sulla superficie della pietra originale. Ma non sono piccole. Sottili e numerose. E hanno poco impatto e sono facilmente evitabili quando si prende il pezzo. Il verde si vede anche sul lato sinistro della pietra. Quindi le possibilità di taglio sono un po' più alte. Due ore dopo. Il materiale di Giadeite si è aperto. Il materiale della Giadeite è verde. Di consistenza fine. Colore speziato. Pieno di acqua. Carne pura e senza difetti. E sembra bello. 1,38 milioni per aprire questo tipo di merce alta di Giadeite è davvero una grande fortuna. Giralo di lato e guarda di nuovo il colore. Il verde è seducente. Ma purtroppo questo pezzo non è abbastanza grande per tirare fuori anche il più piccolo braccialetto. Quindi può solo aprire piccoli pezzi e la superficie delle uova. Il proprietario del primo pezzo è la metà di un palmo di dimensioni imperiali foglie di Giadeite verde. Con argento 4 in tarsio artiglio. La metà inferiore della foglia è anche scolpito un pettirosso. Foglie e pettirosso con insieme avrà una carriera di successo. Un morale stupefacente. L'anno scorso l'asta di primavera Guardian di una foglia di Giada verde imperiale ha messo all'asta 1,8 milioni. Questo è senza dubbio meglio. Almeno 2 milioni. Prezzo di vendita. 1 milione 800 mila RMB. Peso. 44,32 grammi. Dimensione. 64 asterisco 29.5 asterisco 13,5 millimetri. La dimensione della pietra nuda è circa. 50 asterisco 22 asterisco 10 millimetri. Il secondo pezzo che il proprietario ha iniziato è un pezzo di Giadeite Guanin. Pieno di verde. Questo Guanin può essere descritto come una perfetta combinazione di artigianato e materiale. Leggermente più piccolo delle foglie precedenti. L'effetto di fluorescenza è molto buono. Il retro è impostato con semplici gioielli in argento. Sembra più trasparente. Il valore è di circa 1,5 milioni. I pezzi rimanenti sono stati estratti e trasformati in 10 misure diverse. 8 in una collana e gli altri due in un anello e un ciondolo. Prima di tutto. 8 imperiale verde faccia uovo Iadeite. Il colore complessivo sembra essere corretto. Colorato. Senza segni e senza crepe. La qualità è anche molto fine. Anche se non so che cosa è come essere fatto in una collana. Ma posso anche fare riferimento ad altri prodotti finiti. Collana di Giadeite naturale con diamanti. Imperial Green Iadeite faccia uovo con collana e orecchini di diamanti. Ce ne sono anche due più piccoli che sarebbero belli come un ciondolo e un anello. Alcune persone la vendono come Iadeite. Se è vera Iadeite. Un paio di questo tipo di braccialetto di colore dell'acqua dovrebbe essere più di 100 milioni di dollari. Alcune persone comprano qualche milione pensando di aver fatto un affare. Ma non sanno che non c'è un affare così grande da fare nel mondo. Smaltite un po' la sbornia. Le persone che ci cascano sono fondamentalmente quelle che vogliono fare un grosso affare. Grazie. 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 Grazie.